Salve a tutti da Riccardo Zarfati, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il portafoglio ETF. Vediamo oggi l'operatività per mercoledì 1 luglio, quindi primo giorno del nuovo mese. Questi sottostanti, quindi tre indici e tre materie prime che seguiamo ogni giorno con 12 ETF disponibili su Borsa Italiana. Questi ticket degli strumenti che possono essere utilizzati per seguire questo particolare approccio operativo. Vediamo subito il tabellone dati misti in arrivo dalla Germania, un dato positivo, retail Celsius, quindi vedete al dettaglio, 0,5% rispetto a 0. Europa Inflazione come da attese sul mese 0,2%, l'indice PMI di Chicago 49,4%, quindi sotto le attese che si attestavano su 50. Vedete anche un dato sotto la soglia discriminante dei 50 punti, che sta a indicare quindi contrazione economica. Chiaramente in questa fase, come dico da qualche giorno, i dati macro contano fino a un certo punto perché ovviamente ciò che conta di più è proprio la questione della crescita. Ricordo che questa notte scade la rata dovuta al Fondo Monetario Internazionale, una rata piuttosto cospicua, ma chiaramente ormai siamo abituati alle sorprese all'ultima ora, come abbiamo visto nel fine settimana con le istituzioni del referendum, quindi è difficile dire che cosa accadrà da domani in poi. Ricordo comunque che anche se dovesse non essere pagata questa rata, partirebbero le pratiche del default, ma non ci sarebbe un default immediato. Comunque torniamo al tabellone, oggi ancora negatività, seppure c'è stato un tentativo di rimbalzo anche in giornata, ma vedete il ribasso, per il momento prosegue senza estremi, come dire, senza croli estremi. Italia meno 0,48%, Germania più debole meno 0,91%, addirittura S&P 500 in questo momento tenta un rimbalzo a metà giornata, più 0,17%. Debole l'oro, rimbalzo del petrolio 1,07% e oggi anche un piccolo ritracciamento del core, per il momento ancora estremamente controllato, meno 0,51%. Euro-Dollar in alta lena, oggi meno 0,58%, ma vedete comunque sempre in prossimità di 1,12%, in questo momento 1,11,5%. Andiamo quindi a vedere le nostre candele, iniziando dall'indice italiano, vediamo se c'è qualche novità grafica che potrebbe essere interessante. Iniziamo quindi, eccolo qua, ETF-MIB, vedete oggi naturalmente dopo il crollo di ieri, ricordo, circa meno 5%, questo ulteriore calo disegna un'altra candela rossa. Ora, ovviamente qua c'è un decremento, un ritracciamento anche piuttosto violento che sta guidando, però in questa fase, come già accennato ieri, investire sui mercati europei è un po' come giocare alla slot machine, perché se rincorrono le voci, ci sono colpi di scena all'ultimo momento, quindi il mio suggerimento in questa fase è tranquillamente restare alla finestra e vedere che cosa succede, quando la situazione sarà un po' più chiara per seguire di nuovo dei trend un po' più definiti e che seguono anche dei requisiti tecnici. In questa fase è impossibile dirlo, chiaramente pesa il ribasso per il momento, quindi il suggerimento è di rimanere in osservazione. Lo stesso vale sulla Germania, vediamo subito il DAX e come si sta comportando, vedete siamo di nuovo in prossimità degli importanti supporti dai quali era partito un forte rimbalzo, ma di nuovo in questa fase i valori tecnici, i livelli tecnici contano fino a un certo punto, perché se dovessero le cose andare male, chiaramente o bene, potremmo assistere a delle inversioni di fronte parecchio violente in una direzione o nell'altra. Per cui anche osservazione per l'indice tedesco, lo standard pur americano prosegue la sua debolezza di breve, questo è un indice che in questa fase a mio avviso è bene tradare in una direzione o nell'altra, perché chiaramente gli Stati Uniti seguono un trend un po' più indipendente rispetto alla vicenda della Grecia. Noi qua abbiamo aperto da qualche giorno una posizione short, per il momento sta andando bene, vedete oggi un altro 0,96% di incremento e porta il guadagno della nostra posizione a 2,9%. Per il momento l'RSI non preoccupa, qua siamo usciti dalla zona chiaramente di per venduto, ci stiamo dirigendo verso l'ipercomprato, ma chiaramente finché non abbiamo un pattern grafico preoccupante che al momento non c'è, proviamo a mantenere la posizione. Naturalmente nulla da segnalare sull'ONU, vedete rimaniamo sullo stesso livello di prezzo ormai da altre due settimane, qua siamo la chiusura oggi di 89,76%, chiaramente in questa fase sta ancora guidando una dinamica laterale ribassista, che per il momento a mio avviso è poco interessante anche per andare short, visto che è chiaramente una dinamica piuttosto lenta con scarse variazioni di prezzo. Il corn, la nostra posizione oggi ha leggermente ritracciato, meno 0,18%, comunque chiaramente fa ancora una candela verde, abbiamo ancora un ottimo guadagno, più 9,8%, il suggerimento ieri era comunque di mettere uno stop in macchina a 1,068, che vuol dire in ogni caso premunirsi perché le materie prime possono muoversi molto velocemente e di mettere in cassa comunque almeno 3 o 4 punti di profitto. Infine il crude oil, oggi vedete un buon rimbalzo, un 0,9%, ma per ai chi nasce al momento questo rimbalzo non è sufficiente per far cambiare il colore alla candela, quindi sta ancora guidando questa fase laterale ribassista che guida i prezzi ormai dalla fine, dall'inizio di aprile praticamente, senza una vera direzionalità, per cui anche su questo strumento a mio avviso è preferibile astenersi perché è chiaramente una fase ricca di falsi segnali anche nei time frame più brevi, anche inferiore a mio avviso a quello del giornaliero che noi seguiamo in questa video analisi. Bene, quindi sommario, non cambia nulla per l'operatività di domani, manteniamo la nostra posizione short sugli Stati Uniti, Long sul corn che sta dando un buon risultato e sui paesi europei, sull'indice europeo è chiaramente bene rimanere in attesa e vedere come si evolve la faccenda, sempre ricca di colpi di scena. Questo per ricordarvi di visitare il sito One Hour Trading dove ci sono tutte le informazioni per costruire un portafoglio di investimento di medio e lungo periodo fatto esclusivamente con ETF. Registrazione gratuita e i miei contatti per qualunque chiarimento o approfondimento. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo domani per una nuova puntata. A presto!